E' meglio, dai! Andrei a scappare! E' meglio, dai! Nelle torte! Aspetta, non riesco a farlo! Beh! Madonna! Quelle tortine! Dino! E' molto bello! E' giusto il piano, non c'è! Beh, conti! Giuseppe forza! Giuseppe forza! Giuseppe forza! No, non è opera mia! Nicoletta! E' vero, non è opera! No! Giuseppe forza! No! 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 Lucia! Us besoin aspetta! No! guarda là, questo è il mio guarda là hai fatta amore? si, l'ho fatta già fatta no, fai un altro fai un altro dai no, no, è vero fai l'altro le medaglie le medaglie si, spostati a posto basta basta Nicoletta Giacchelle, fratello e la sorella come? Giacchelle e Giozzi? Giozzi, fratello e la sorella e fratello e la sorella ah, Giacchelle la famiglia nonno a posto non sta più con Dino e volta a Roma è l'unità che non c'è la sorella vai dai 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 ok dai ai dai